Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Sono 17 i marchigiani che approderanno a Roma. 5 al Senato, 10 alla Camera, quelli eletti nelle Marche. Una in Abruzzo, Rachele Silvestri per Fratelli d'Italia e l'altro, Francesco Verducci del PD, che ha ottenuto un seggio in Piemonte e tornerà a Palazzo Madama. I senatori eletti nella nostra regione sono l'ex sindaco di Ascoli Guido Castelli di Fratelli d'Italia, la presidente della Commissione regionale sanità Elena Leonardi, sempre meloniana di Porto Ricanati, Antonio De Poli dell'Udc, col centrodestra ma paracadutato, Alberto Losacco, altro paracadutato del PD e Roberto Cataldi, avvocato ascolano del Movimento 5 Stelle. Per la Camera ce la fanno Stefano Benvenuti Gostoli di Fratelli d'Italia Ancona, Irene Manzi del PD maceratese, Mirco Carloni della Lega Pesarese, Giorgia Latini del Carroccio di Ascoli e il coordinatore regionale dei Salvignani, ma Umbro, Riccardo Augusto Marchetti. Siederà ancora in Parlamento anche Francesco Battistoni, coordinatore regionale di Forza Italia ma non marchigiano e ci sarà anche Lucia Albano, san benedettese di Fratelli d'Italia. Trova posto a Montecitorio Antonio Baldelli, sempre tra i meloniani e fratello dell'assessore regionale Francesco. Per il gioco dei resti rientra Augusto Curti del PD e mantiene il posto in Parlamento anche il san benedettese dei 5 Stelle, Giorgio Fede. Sono sette quindi parlamentari che legge il Piceno, un vero record. Due gli eletti nel maceratese, due nel pesarese con Carloni e Baldelli ed uno del lanconetano con Gostoli. Tre i cosiddetti paracadutati. Quattro le donne su 15 eletti, ma le marchigiane con Rachele e Silvestri sono cinque in tutto.